Lo sapevate che dal 2008 in Regione Toscana esistono dei fondi rotativi per i professionisti? Non lo sapevate? Non ci meraviglia? Perché di fatto questi fondi rotativi sono stati molto poco pubblicizzati in questi anni. Oggi in seconda commissione abbiamo discusso delle modifiche alla legge, le norme in materia di sostegno all'innovazione delle attività professionali e intellettuali e abbiamo ottenuto questo emendamento che impegnasse la Giunta, quindi la Regione Toscana e gli ordini professionali a rendere il più possibile noti questi fondi a tutti i professionisti che ne possono avere bisogno. Infatti c'è un occhio particolare di attenzione riguardo i giovani e le donne. Naturalmente siamo arrivati a questo risultato come? Grazie alle vostre segnalazioni. Ci avete detto cos'era che non andava e il fatto che questi fondi rotativi erano molto poco conosciuti e noi abbiamo presentato un emendamento che impegnasse in questo senso. Continuate quindi a seguirci e a darci i vostri suggerimenti perché è così che veramente possiamo dare un contributo forte ed importante a quello che è il sostegno dei cittadini, in questo caso il sostegno ai professionisti.